Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui a spacchettare questo Blu-ray 3D che è il film della Marvel Capitan American Civil War Perfetto Andiamo ad aprire Confezione di cartone Abbiamo nel primo disco il film in Blu-ray 3D Mentre nel secondo disco abbiamo tutti i contenuti speciali Le scene extra, le scene eliminate, i commenti audio eccetera Il film è girato in 2.39 a 1 in 16.9 Possiamo avere l'audio in 7.1 in lingua originale inglese Altrimenti 5.1 in italiano Mentre nel Blu-ray normale in 2D possiamo anche scegliere la lingua spagnola E adesso andiamo a vedere questo cofanetto Qui vediamo replicate tutte le informazioni nella scatola di cartone All'apertura troviamo i soliti due fogliettini di pubblicità Abbiamo sulla sinistra il film in Blu-ray 2D con i contenuti speciali E a destra il Blu-ray 3D Niente di più, niente di meno E adesso andiamolo a vedere in televisione E adesso andiamo questo video E adesso andiamo dal video Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.